Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video, questa volta è i flop del 2012. Allora, partiamo con i prodotti. I primi flop del 2012 che voglio assolutamente farvi vedere, però per i quali ho già fatto una review, quindi non mi dilungherò più di tanto, sono questi due pennelli della Elf, che erano compresi nel Mineral Blow Kit di Elf. Quindi questi due pennelli della Elf, perché sono tagliati veramente malissimo e questo si vede, ve l'ho fatto vedere nel video della review, quindi se scorrete un po' indietro nei miei video troverete sicuramente la review di questi prodotti. Assieme a questi pennelli ci sta il suo collega, che è il fondotinta, che io ovviamente ho finito per non buttare via i soldi, ma comunque non è per niente un buon fondotinta, assolutamente no, quindi è un flop per me. Questo è nella colorazione light dell'Elf Mineral Foundation SPF 15. Questo veramente è un flop. Poi sono altri tre ombretti, che sono il numero 44, il Sap 2U, che è questo rosso che a vista sembra fantastico. Ve lo faccio vedere aperto. Eccolo qui. Ma poi alla fine è sbocciato e veramente chiaro, vedete? Sembra un rosa quasi, e infatti io lo utilizzo come blush. Se volete un blush fantastico, questo è un blush fantastico, ma se lo comprate per ombretto è assolutamente un flop, perché non scrive. Poi un altro è lo Shrimp MeHup, che è il numero 55, ed è questo. Ve lo sboccio anch'esso. Vedete, qui hanno una scrivenza particolarmente alta. Poi lo andate a mettere sulla palpebra, in questo caso sulla mano, e non si vedono assolutamente. Per non parlare del 25 Go All Girlie, che è questo rosa, qui che è carino, è bello, è molto carino da utilizzare anche magari come illuminante. Ma qui scrive, e qui si perde, vedete? Cioè non ha la stessa scrivenza da swatch, cioè non ha una scrivenza da ombretto. Non lo considero nemmeno un ombretto, per me non lo è assolutamente. Infatti io anche questo faccio fatica ad utilizzare come ombretto, e quindi va nella sezione blush della mia vanity table. Poi, per rimanere sempre sugli ombretti, un flop di questo 2012, è questa palettina qui della Color Workshop, che è questa. Ha dei colori fantastici, però anche qui faccio fatica a prelevarli. Quindi, vedete, io adesso sto prelevando del prodotto, quello che è venuto via è questo, e se lo poggio qui, vedete? Cioè zero, zero, veramente zero. Cioè, quello che scrive di più è, sono i due blush, eccoli, che sono questi due blush centrali, che poi swatchati, vedete, si vedono un po'. Però, più di... Comunque, tornando alla palette, non ne vale proprio la pena spendere questi soldi per questi ombretti. Sempre in ambito palette, una palette che boccio è questa, della Kiko, che è la Blooming 01 Sweet Petals, che è questa. Allora, i colori sono stupendi, sono uno più bello dell'altro, però, effettivamente, prendendo, vedete, il colore, in questo modo, direttamente dalla palette, il colore si prende, vedete, cioè, io poi li vado a swatchare, cioè, questo è il risultato della palette. Un paio di colori si vedono, un altro no, effettivamente, più lo sfumi e più va via, cioè, adesso, calcolate che lo sto sfumando con un pennello da cipria, però, vedete? Il rosa è completamente scomparso, il celeste anche, cioè, non scrive, non scrive, e qui, anche qui difficoltà a finire questa palette. Cioè, io, boh, a me non piace per niente. L'avrò utilizzata due volte per un tutorial, cioè, due volte per un make-up, e due o tre volte per degli swatch, ma, assolutamente non va, assolutamente. Poi, un altro flop del 2012, personalmente parlando, sono questi ombretti della Elf, dei quali vi ho fatto già una review dettagliatissima, e vi dico solo che si seccano, appena li metti, si seccano e si crepano, dopo un po' e volano via. Allora, questo, questo sono questi ombretti della Elf, poi, altro flop sempre, per quanto riguarda gli ombretti, è questo pigmento della Essence, che è lo 01, ed è lo Studio 54. Allora, come colorazione è bellissima, perché è una via di mezzo tra un sabbia, un taupe e un dorato, però, quando lo andate a applicare, niente, non resta su, perché è come se fosse che sono dei glitter, invece che una polvere. vedete, e i glitter vanno via, vanno via per tutto il viso, cioè non si vede, si vedono solo un po' due glitterini, ci soffi su e vanno via, vedete? Quindi questo è stato un flop, ripeto, è lo Studio 51 01, quindi non lo prendete. Poi, per quanto riguarda i correttori, per me, l'unico flop, ci sono solo due flop, che sono questo, che è il correttore della bottega verde, del full coverage, il correttore camouflage della bottega verde. Allora, se lo prelevate, lo applicate, sembra un buon prodotto, cioè veramente, io quando l'ho provato ho detto, ti ho trovato il fondotinta della mia vita, ma, dopo un po', vedete? Eccolo qui, dopo un po', va nelle pieghette e sembrate vecchie, di vent'anni, cioè vent'anni più vecchie, cioè, no, scusate, no. Mentre l'altro è questo della Essence, che è il Pure Skin, nel senso, cioè, a me questo correttore piace, piace perché, vedete, ha da un lato la parte beige, dall'altra lo stick verde, appunto per i rossori, i brufoletti e tutto, eccolo qui, però comunque anche questo, a me personalmente, va nelle pieghette e fa lo stesso effetto di quello bottiglia verde. L'unica cosa che faccio è utilizzare un po' di prodotto sui brufoli, perché essendo molto pastoso, comunque, resta lì, però, solo sui brufoli. Per se voi lo volete usare come contorno occhi, no, come correttore per gli occhiai, assolutamente no, va nelle pieghette, almeno a me va nelle pieghette. Poi, per quanto riguarda le matite per gli occhi, due flop sono queste due. Questa matita che è della linea di limoni, e la scrivenza è fantastica, cioè, voi la vedete, scrive che è una meraviglia. Guardate, poi, sulla sfumabilità, anche, vedete, si sfuma benissimo, è molto semplice da sfumare, quindi è tutto, però dopo un po', soprattutto se lo ha utilizzato tipo come base, oppure all'interno dell'occhio, va via. Si squaglia, si squaglia, che è una meraviglia. Così come si sfuma, così si squaglia, che è una meraviglia. L'altra è sempre una matita nera, e questo è il col della Prestige. Questa che ha dall'altro lato lo sfumatore, anche essa scrive che è una meraviglia. Si sfuma ancora meglio, vedete, ma comunque, in quanto a resistenza, è assolutamente zero. Poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, un altro flop, personalmente parlando, perché effettivamente il prodotto è buono, è questo casual della Bottega Verde. Allora, io l'avevo preso, perché il casual è famosissimo, perché dovrebbe scrivere all'interno dell'occhio, no? Quindi, io l'avevo preso per quel motivo, all'interno del mio occhio non scrive, quindi come prodotto per il quale è stato creato, non funge, non va bene, non funziona. Questa è la colorazione, vedete, la colorazione è bellissima, tutto, niente da dire, la sfumabilità anche, forse anche, cioè, la sfumabilità va via, sparisce. Infatti, l'unico modo per poterlo utilizzare è come base cremosa, lì sotto degli ombretti viola, che non mi scrivono. E, infine, l'ultimo prodotto flop di questo 2012, è questo mascara qui, della Pupa, che è l'Art Fix, sarebbe il mascara effetto ciglia finte. Allora, da premettere che lo scovolino è classico, cioè, un classico scovolino, l'ho piegato io, eh? Non era già così, il classico scovolino da mascara, quando lo applicate è come se fosse che sulle ciglia non avete praticamente nulla. Dovete fare tre passate per avere una passata basica di qualsiasi altro mascara, e altre tre passate per avere un effetto quasi, quasi ciglia finte. Quindi, per questo lo boccio, perché non è assolutamente quello che promette di fare. E, niente, ragazzi, questi, sì, questi sono i flop di questo 2012. Quindi, se pensate di comprare qualcosa di questo, io ve lo sconsiglio. Voi, se volete provare, provate, ma io ve lo sconsiglio. Ovviamente, anche qui vi dico che avrei piacere di sapere i vostri flop, di modo tale che anch'io magari evito di sprecare soldi per un prodotto che magari non ha nessuna qualità. Fatemelo sapere con un commentino al di sotto del video, oppure con un video risposta. Io vi lascio con un mega bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!